L'esperienza appunto che vi porto è quella del bilancio partecipativo del Comune di Vignola, che ha adottato la piattaforma di SIDIM dal 2021. Esatto, grazie, grazie mille. Aspetta, perché devi accedere esatto sui processi. Allora, si tratta della terza edizione e la prima edizione è stata fatta quasi completamente online, ovviamente dovuto al covid e alla pandemia. L'anno scorso, 2022, si è fatto qualcosina in più in presenza, quindi una parte del voto, e quest'anno, senza problemi, diciamo la parte che deve essere online, incontri online, e invece poi le assemblee pubbliche, insomma l'incontro in presenza. Dato che però nel 2021 c'è stata proprio la prima volta di bilancio partecipativo per il Comune di Vignola, il primo anno è stato proprio progettato il modello del bilancio partecipativo, quindi è stato negoziato il modello con, c'è stato il tavolo di negoziazione permanente e l'amministrazione che hanno appunto stabilito il modello, hanno scritto il patto di partecipazione, che poi è stato approvato e pubblicato. Giusto per dare due dati, se è di interesse, più o meno il Comune di Vignola siamo sui 25.700 persone, il budget nel 2021 erano sui 100.000 euro nel 2022-108, le taglie dei progetti potevano essere da un minimo di 15.000, un massimo di 30.000, e ad esempio il primo anno su Vignola partecipa sono state raccolte ben 44 proposte che insomma sono parecchie. Poi per i nerd, quindi magari prevengo la domanda, la versione del CDIM utilizzata nei primi due anni, il 2021-2022 era la 24.3 e nel 2023 invece stiamo usando la 26.4. Quindi, allora, la piattaforma per ogni edizione del bilancio partecipativo è stato proprio attivato un processo dedicato su desi DIM e questo processo è scansionato in sette fasi. E la prima fase, che è quella proprio di preparazione e di condivisione, infatti come vedete, diciamo che è stata dedicata nel primo anno, 2021 ovviamente, alla progettazione del patto di partecipazione. Invece nel 2022 e quest'anno 2023, invece questa fase è dedicata a una formazione per funzionari comunali sull'utilizzo proprio della piattaforma dei CDIM. Poi, se c'è qualche, insomma, se c'è qualche modifica da fare al patto di partecipazione, questo viene aggiornato, viene portato in consiglio comunale, è sempre stato provato all'unanimità e poi viene reso pubblico, sempre sulla piattaforma su desi DIM, in basso tra i documenti relativi e quindi è possibile scaricarlo PDF, insomma, quindi viene reso disponibile. Successivamente si apre quindi la fase di raccolta delle proposte e anche quest'anno abbiamo ricevuto parecchie proposte, si è appena chiusa questa fase, quindi i cittadini possono fare proposte solo online su desi DIM e anche qui c'è una novità tra le prime due edizioni e quest'anno perché nelle prime due edizioni, semplicemente col componente proposal, quindi le persone caricavano la propria proposta sul sito e mettendo titolo e breve descrizione. Invece da quest'anno utilizziamo un nuovo plugin perché prima, quando caricavano la proposta, potevano dettagliare la proposta scaricando un modulo, compilandolo e riallegandola alla proposta. Invece quest'anno il tutto può essere fatto direttamente compilando il form sulla piattaforma e quindi oltre al titolo e breve descrizione, le persone possono specificare obiettivi, destinatari, localizzazione di interventi, costi, collaborazioni e bonus anche. Quindi chi può presentare la proposta, le persone che si registrano. Vado qua, eh? Ok. Esatto, puoi entrare esatto in una proposta qualsiasi. Questi sono quali di quest'anno? Vado... Ci riegi. Esatto, sì. Andiamo su... Il nominiamo ci riegi. ...su un titolo a caso. Infatti se vedete qui vedete che c'è obiettivi, destinatari, descrizione di interventi, localizzazione, e quindi le persone prima avevano una... Potevano immettere poche poche informazioni, mentre adesso compilano direttamente il form sulla piattaforma e quindi possono appunto agire direttamente. Per farlo basta registrarsi, quindi nome e indirizzo mail e poi le persone possono anche presentare, diciamo, le proposte non come singoli ma come gruppo. Poi quindi successivamente, adesso questa la fase, la terza fase si è appena aperta, siamo nella fase di valutazione tecnica e coprogettazione, quindi qui vengono valutate insomma tutte le proposte, c'è una commissione tecnica che valuta tutte le proposte che sono state raccolte e quindi stima i costi, valuta se effettivamente queste proposte sono fattibili, conformi e in questo caso il tutto viene gestito chiaramente fuori dalla piattaforma di SIDIM, a parte poi la pubblicazione dei progetti che passano al voto e poi c'è il componente sempre proposal, c'è anche la funzione risposta alla proposta, quindi ogni proposta, esatto, anche uno di quelli, esatto, se vedete lì su ogni proposta vedete che c'è rifiutato, accettata, in questo caso si fornisce sempre anche una motivazione per cui quella proposta è stata rifiutata oppure accettata perché è conforme. Quindi dopo che tutte le proposte sono passate, c'è la promozione, quarta fase, promozione dei progetti al voto, quindi i progetti vengono presentati in un'assemblea pubblica alla cittadinanza. fase 5, il voto, il voto vero e proprio, quindi chi può votare? I residenti, i city user con più di 16 anni, in questo caso si abilitano i codici fiscali delle persone a 20 diritto, le persone immettono proprio codice fiscale e poi ricevono un sms di conferma. Se il comune di Vignola ha stabilito che i city user sono persone che lavorano, studiano o fanno, praticano diciamo volontariato nel comune di Vignola e quindi devono iscriversi però a un albo per poter votare. Quindi compilano un modulo sempre, però soltanto che anche qui c'è una novità perché prima compilavano questo modulo, poi però dovevamo chiedere aiuto a un informatico che abilitava il codice fiscale. Invece adesso con un programma gestiamo questa cosa in automatico, ecco. E questo qua il modulo, l'ho trovato qua. Esatto, adesso tra l'altro abbiamo appena pubblicato l'albo dei city user, quindi quello è stato appena messo lì. E poi cosa dirvi d'altro? Niente, poi dopo gli amministratori della piattaforma, i decidim, quindi si occupano di dare una struttura diciamo omogenea a tutte le proposte, quindi nel senso di titolo, video, interventi, obiettivi e costi. E poi le persone quindi possono votare con la componente bilanci, quindi devono scegliere di distribuire le risorse tra almeno tre progetti. e vado sempre su questo. Vado qua? Esatto, vota progetti. Esatto, vedete lì la persona ha a disposizione il budget 100.000 euro e lo distribuisce tra i progetti che possono essere votati. Però in questo caso è stato scelto il criterio di scegliere almeno tre progetti. E niente, quindi poi c'è la fase successiva dove viene pubblicata una pagina nuova, quindi se vai anche su, esatto, i risultati, perfetto. Quindi alla fine si crea quella nuova pagina lì che viene aggiunta sulla piattaforma e lì in fondo, sotto 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 sotto, si può anche scaricare il report, quindi in formato PDF con tutti i dati e il report delle votazioni. E un'altra, l'ultima fase che ha adottato il comune di Mignola, che non è proprio da tutti, è quella del monitoraggio. Aspetta che ti metto il link così... Ecco, ecco, ecco. Ok. Allora, fase di monitoraggio, anche qui, molto importante perché è uno spazio che serve proprio a dare trasparenza, quindi le persone possono vedere lo stato di avanzamento, di realizzazione del progetto e se clicchiamo anche, esatto, su una delle proposte che sono passate, ad esempio quelle del 2021, ok, e vedete anche qui, vabbè che è già concluso, sotto c'è il video e poi sotto c'è tutta la cronistoria del progetto.